... Che stai dicendo? Devo farlo io! Devo farlo io! Io posso salvare noi oggi! Tu puoi salvare il mondo! Al mondo servi tu! Ti amo! Sai che devi fare? I uomini... ...sono tutto ciò che tu dici! Ma anche molto di più! Quindi sono qui... ...e combatto... ...e mi prodigo! Per il mondo come potrebbe essere! È questa la mia missione ora! Per sempre! ...